Quando ho cominciato questa serie pensavo più a parlare delle auto o meglio dei costruttori automobilistici meno conosciuti ed infatti vi ho portato case automobilistiche o simili come Aptera, Archimoto, Canoo. Oltretutto vi ringrazio davvero tanto perché il video su Aptera sta davvero facendo successo se vogliamo rispetto agli altri video ovviamente e sta portando molta gente nuova e questo mi fa molto piacere ma dicevo io volevo portare delle aziende meno conosciute ma effettivamente molti sanno poco anche di quelle più conosciute anche perché si sono espanse molto nell'ultimo periodo ed infatti in questo video voglio parlarvi della più grande se vogliamo cioè di Tesla appunto ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi vi vorrei parlare di Tesla appunto ma prima di cominciare mi raccomando non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale che mi aiuterebbe a espandere questa community a far conoscere a più persone i miei contenuti ma partiamo subito con questa azienda il preconcetto di moltissime persone è che Tesla sia stata fondata da Elon Musk e questo è sbagliato infatti Elon Musk diventò amministratore delegato o CEO come si dice nel 2008 ma l'azienda fu fondata nel 2003 ovviamente Musk iniziò a dare fondi importanti per l'azienda già nel 2004 perciò sì faceva parte non dei fondatori ma dei primi investitori sicuramente a riguardo la CNBC ha fatto un'intervista ai due fondatori di Tesla Mark Trappening e Martin Eberhard in cui raccontano un po' cosa è successo all'inizio dell'azienda come si sono trovati nella difficoltà di entrare in un mercato che a loro era completamente sconosciuto vi lascio il link qua sotto in descrizione quindi se volete andare a vedere è in inglese penso ci siano comunque sottotitoli in italiano ed è molto molto interessante come dicevo Elon Musk nel 2008 diventa l'amministratore delegato di Tesla ma già nel 2006 il piano nella testa di Musk era chiaro cioè vendere un'auto sportiva con quei soldi costruire un'auto più economica e con quei soldi costruire un'auto ancora più economica tutto questo ovviamente andando a rispettare l'ambiente ed essendo più eco-friendly se vogliamo possibili la prima auto elettrica costruita dall'azienda è stata la Tesla Roadster nel 2008 appunto in 2500 esemplari e venduta in 31 paesi in tutto il mondo la Tesla Roadster era la prima ad utilizzare le batterie agli ioni di litio infatti i fondatori di Tesla furono i primi a creare questa tipologia di batterie che tuttora viene utilizzata in tutti i veicoli elettrici e questa appunto era l'auto sportiva di cui parlava nel suo piano e in seguito ha voluto costruire un'auto più economica più o meno ed infatti uscirono con la loro berlina l'iconica Tesla Model S nel 2012 questo e anche questo fu un grosso successo e li spinse ancora di più verso magari quel mercato un po' più di lusso se vogliamo il terzo veicolo uscito dalla casa californiana è la Model X uscita nel 2015 con le classiche ali di gabbiano se vogliamo questo era un po' fuori dal progetto secondo la mia visione non era previsto ma sicuramente li ha aiutati a diventare più iconici oltre questo nello stesso tempo in cui stavano costruendo questi modelli stavano anche collaborando con altre aziende della scala di Daimler, Mercedes per la Smart EV e vari altri veicoli della gamma Mercedes e inoltre anche Toyota con i RAV4 EV ultimamente la casa giapponese ha avuto qualcosa da dire riguardo alla mobilità elettrica ma penso che questo sia per un altro video che è molto interessante vedere magari il punto di vista di altre persone ma soprattutto come viene letto dalle persone che ricevono questo pensiero nel 2016 Tesla presenta la sua auto tuttora più venduta cioè la Model 3 le consegne iniziano però nel 2017 con non pochi problemi infatti come dice spesso Elon Musk nelle sue interviste creare un prototipo è facile la produzione in massa è un inferno infatti proprio nella presentazione dell'auto possiamo sentire Elon Musk dire Welcome to production hell o tradotto benvenuti nell'inferno della produzione giusto proprio a ricordare che non è una cosa facile infatti molti dei primissimi modelli avevano grossi problemi soprattutto di carrozzeria per lo più ovviamente i scettici dell'elettrico non tardarono a far notare questi problemi che ci sono tuttora ma sono decisamente minori rispetto a quelli che c'erano al tempo In ogni caso l'idea iniziale della Model 3 era di venderla ad un massimo di 35.000 dollari ma i prezzi sono stati sottostimati decisamente infatti solo ultimamente in America stiamo arrivando a un livello di prezzi comparabile a quello detto nel 2017 ma questo solamente per dei vari costi di logistica e produzione varie che non erano stati messi in conto per una vendita così in massa di quest'auto infatti è stata la prima auto elettrica a raggiungere oltre le 500.000 unità vendute oltretutto questo modello si doveva chiamare Model E ma Ford deteneva il marchio registrato per chiamare le auto E perciò ha dovuto chiamarlo Model 3 che è praticamente il modo che i gamer usano per scrivere la E o quando il nickname è già stato preso Elon Musk voleva mettere la E a tutti i costi per questo modello semplicemente per una questione goliardica infatti se si mettono in fila la Model S, Model 3 e Model X esce fuori SEX e scoprirete andando sempre più avanti che Elon Musk si burla molto di queste cose giocando su numeri particolari o cose che possono sembrare comunque molto bambinesche ma probabilmente è la cosa che lo rende così umano rispetto a molti altri amministratori delegati che sono completamente distanti rispetto ad un pubblico più vario ecco la produzione di queste auto veniva completamente fatta a Fremont in California ma presto si resero conto che la quantità di batterie che gli serviva era enormemente in più rispetto a quello che avevano perciò Tesla decise di costruire la prima Gigafactory in Nevada dedicata solamente alla produzione di batterie in collaborazione con Panasonic ed in seguito all'acquisizione di SolarCity Tesla costruì anche la Gigafactory 2 nello stato di New York per la costruzione di pannelli solari, tegole solari e colonnine di ricarica elettriche da spargere un po' in tutto il mondo ultimamente oltretutto è stata costruita in Cina un'altra fabbrica di queste colonnine di ricarica elettrica che dovrebbe produrre fino a 10.000 di queste colonnine da spargere penso un po' in tutto il mondo a tutt'oggi infatti esistono ben 40.000 colonnine di ricarica Tesla in tutto il mondo e un'aggiunta di 10.000 in un singolo anno sarebbe davvero un grosso incremento in così poco tempo con l'acquisto di SolarCity e la presentazione della sua nuova Model 3 nel 2016 Elon Musk presenta la seconda parte del piano che ha l'azienda per il futuro questo piano indica la volontà di creare una rete di tetti solari con powerwall integrati un sistema di guida autonoma affidabile e l'espansione dei veicoli in vendita e possiamo vedere che questo piano è del 2016 nel 2021 già si sta applicando questo piano infatti possiamo vedere che sempre più case in America stanno montando i tetti solari con anche i powerwall andando così ad aumentare di molto il fatturato dell'azienda Tesla in generale abbiamo visto l'espansione dei veicoli grazie anche al lancio della Model Y andando così a fare sexy nel totale dei veicoli ma non scordiamoci anche del Cybertruck, del Semi e Roadster se uscirà mai ed infine la guida autonoma che secondo tantissime persone è il punto centrale in cui l'azienda dovrebbe puntare tutte le sue energie infatti nel momento in cui la guida autonoma viene risolta stiamo parlando di un guadagno totale in modo che banalmente Uber venga sostituito da auto che si guidano da sole lo so può sembrare fantascienza ma i telefoni potevano sembrare fantascienza 30 anni fa anche meno forse a questo riguardo Tesla ha deciso di andare un po' controcorrente e immettersi personalmente con un software proprietario dentro questa corsa prima di puntare tutti questi sforzi invece si affidava a un'azienda di nome Mobileye che adesso è posseduta da Intel ma l'azienda non era pronta a lasciare i propri clienti testare il prodotto appunto la guida autonoma questo spinse anche Tesla a lasciare andare Mobileye per spingersi a creare la propria guida autonoma infatti molti danno contro a Tesla perché dà in prova dei prodotti in beta alle persone rischiando la loro vita dicono ma io sono dell'idea invece che il prodotto deve essere utilizzato dalle persone e se queste persone riescono a darti più feedback rispetto a magari un computer che non ragiona precisamente come una persona secondo me è una cosa molto migliore specialmente quando si tratta di un prodotto completamente software se vogliamo ovviamente c'è anche la parte hardware con le camere ma ci arriviamo dopo in cui ti servono davvero miliardi di chilometri percorsi per strada infatti Elon Musk in alcune interviste specificò che l'auto sovrascrive tutto per non schiantarsi infatti è davvero molto più sicura rispetto alla guida umana di già come è adesso ma per essere perfetta l'auto, e cito Elon Musk, deve sapere cosa fare nel caso un'astronave si schiantasse in mezzo alla strada detto in parole povere l'auto deve sapere cosa fare in qualsiasi occasione per quanto riguarda l'utilizzo delle camere per la guida autonoma tutti i veicoli Tesla hanno otto camere intorno all'auto che possono vedere a 360 rispetto a un umano che può vedere solamente avanti o solamente indietro o può vedere gli specchietti massimo al contrario magari di Waymo che si dota anche di camere ma soprattutto di LiDAR che utilizza dei laser per capire le distanze dal veicolo in fronte a te o dal auto di fianco o comunque del mondo che circonda questo veicolo che sta guidando che non che stai guidando ma il problema ovviamente nasce dall'ingombro di questi affari infatti sono risaputi essere molto grossi e oltretutto molto costosi infatti un singolo sensore LiDAR non può essere di molta utilità ma un singolo sensore LiDAR costa fino a 5.000 dollari perciò capiamo che i prezzi delle auto andrebbero alle stelle quello che vuole fare Tesla è molto semplice in teoria ovviamente infatti dice se una persona riesce a guidare con i propri occhi solamente guardando avanti perché un'auto non dovrebbe riuscirci solamente usando le camere ed effettivamente il ragionamento secondo me non fa una piega oltretutto ricordiamoci che sono 8 telecamere che vedono a 360 gradi in più ha anche vari sensori di radar che vedono oltre magari alla macchina in fronte a noi impedendoci così magari di schiantarci contro la macchina che ci precede che inchioda improvvisamente tutto quello che sto dicendo ovviamente succederà in un futuro magari prossimo ma in un futuro in questo momento non c'è un livello 5 come si dice di autonomia dell'auto perciò questo è il fine ultimo ed infatti questo fa parte del secondo piano rispetto a Tesla per l'azienda ma ho idea che comunque ci stiamo avvicinando sempre di più bene dopo questo sproloquio sulla guida autonoma e meno passiamo comunque ai veicoli dell'azienda che sono tutti già molto conosciuti infatti li passerò molto in fretta abbiamo la Model S che nell'ultimo trimestre dell'azienda è stata presentata nel sua modalità refresh ne parlo anche in un altro mio video al volante Yoke come si chiama? Closh tipo che a quanto pare è anche legale perciò arriverà davvero così abbiamo la Model X che è un po' il SUV anche lui ha avuto il refresh quest'anno la Model 3 che è un po' la quattroporte di tutti i giorni è quello sicuramente che gli ha dato più successo è uscito proprio l'anno scorso abbiamo la Model Y o Model Y che è un po' il crossover dell'azienda è praticamente una Model 3 un po' più alta secondo me un po' piacere come no non sono molto nei crossover io e dovrebbe arrivare in Italia spero entro la fine dell'estate grazie anche alla costruzione della Giga Berlin appunto a Berlino tra i veicoli che però non sono ancora usciti abbiamo il Cybertruck che ha avuto una presentazione memorabile diciamo così con il vetro che si ruppe facendo molto scalpore anche sicuramente per la forma che aveva il veicolo probabilmente è uscito con questi poligoni a detta di Elon Musk il veicolo sarà praticamente uguale il veicolo da strada quindi vedremo cosa ne uscirà anche questo dovrebbe uscire invece dalla fabbrica di Oatstein in Texas che è in costruzione tuttora con una velocità incredibile oltretutto si presume che le prime consegne del Cybertruck avverranno già a fine di quest'anno poi abbiamo il Tesla Semi che è un po' il camion sempre di Tesla che sta già iniziando più o meno la produzione in test penso all'inizio ma ovviamente è un veicolo di nicchia se vogliamo non sarà la parte più grossa dell'azienda ovviamente ed infine abbiamo la Tesla Roadster che a detta di Elon Musk l'anno prossimo arriverà sul mercato finalmente e volerà più o meno non è chiaro all'intervista con Joe Rogan ha detto che fluttuerà a mezz'aria grazie anche ai thruster di SpaceX dietro alla targa che gli faranno fare più o meno uno 0 a 100 in meno di un secondo per quanto possa essere utile diciamo che è molto figo poter dire di avere un'auto che fa 0 a 100 in meno di un secondo diciamocelo e dovrebbe costare intorno ai 200.000 dollari come ultime considerazioni non dimentichiamoci comunque che Tesla ha molte fabbriche in costruzione una di queste è quella Shanghai che tecnicamente è già completata ma si sta espandendo sempre di più Tesla ha già firmato anche per costruire in India probabilmente non è ancora chiaro qualcosa riguardante il solare con la mano d'opera che costa decisamente meno in un paese che comunque è sempre colpito dal sole per lo più quindi può funzionare secondo me sono dell'idea che una collaborazione con Archimoto sarebbe perfetta per l'azienda soprattutto in quel mercato ripeto andate a vedere il video su Archimoto se non l'avete visto ma secondo me Archimoto ha davvero molto da offrire a quel tipo di mercato la mia idea su Tesla è abbastanza chiara sono i leader del settore senza alcuna ombra di dubbio adesso ovviamente arriva la competizione ma la competizione non è pronta secondo me ovviamente a questa gara infatti non si tratta solamente di costruire le auto ma si tratta di batterie è una gara sulle batterie infatti Tesla già da anni vende ogni singolo veicolo che riesce a produrre avendo un inventario di solamente 10 giorni quando i più grandi manifatturieri al mondo ne hanno fino a 70 di giorni di inventario il problema è molto semplice la produzione di batterie non è a livello della richiesta di auto elettriche ed è per questo che molte case automobilistiche spingono per magari dei veicoli elettrici con un pacco batterie più piccolo per poter andare a venderne ovviamente di più ma questo può dargli solamente un'idea di vantaggio all'inizio ma nel lungo andare non ci arrivano e infatti Tesla sta producendo anche le proprie batterie e pianifica di creare vari centri per la produzione delle proprie batterie in modo di non avere mai dei problemi con i fornitori di materiali e appunto ripeto di batterie l'ho già detto tipo quattro volte scusatemi ma detto questo io vi ringrazio davvero tanto per il supporto che mi state dando soprattutto nell'ultimo periodo non dimenticatevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e non dimenticatevi di farmi sapere con un commento qua sotto se a voi piace Tesla o pensate che magari sia sopravvalutata come azienda e magari cosa consigliereste in confronto a Tesla detto questo grazie mille e al prossimo video